Il Milan ha perso, com'è andata? Brutta giornata Questo lo sapevo, l'avevo detto, perdiamo la partita che non conta e vinciamo quella che conta Ma ci sono degli ex pollo disastrosi Commentiamo i dati veri, a occhio abbiamo fatto un'impresa storica A occhio Si annuncia una forbice terribile A occhio abbiamo fatto un'impresa storica Le sue sensazioni quali sono? Felice Ma come fa a dire che è felice senza sapere ancora di soltare? Felice, seccolare Le piace l'aria Mi fate entrare, posso? Assolutamente, grazie Quando parla... Ecco, se tanto mi dà tanto, questo sarà evidente